E quella di questa mattina era una mattinata calda sul fronte della sanità locale perché a Durbino si teneva una riunione dei sindaci dell'area vasta per decidere la localizzazione dell'ospedale unico. Ma si registra un nulla di fatto per tutta una serie di avvenimenti proprio avvenuti durante questa assise. Noi qui abbiamo questa sera nel telegiornale ospite il sindaco di Fano Massimo Seri che era presente appunto alla riunione ed è stato uno dei protagonisti di questa mattinata. Allora sindaco buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera anche a tutti i telespettatori. Allo stato attuale è un nulla di fatto quello che si registra ma che cosa è avvenuto spiegando il perché, che cosa è successo in alcuni frangenti di questa riunione? Sì, intanto vorrei dire che non è mai un nulla di fatto perché ogni episodio, ogni appuntamento ha un significato e lo svolgimento ha un suo significato. È stata una mattinata difficile anche per chi vi parla, impegnativa, dove in qualche modo si sono manifestate posizioni forti e diverse. Ma io penso che hanno partecipato con grande determinazione perché rappresento questa città, rappresento questo territorio e non si possono subire le scelte. Poi si può ragionare sulla complessità e sulle difficoltà. Quindi questa mattina io ho fortemente riproposto il sito di Chiaruccia, che penso, ma non ho trovato un solo intervento che potesse obiettare sulle posizioni, sulle argomentazioni che ho portato su quel sito. Quindi l'ho riportato, ripeto, con forza in quella riunione, come altri, a cominciare da Pesaro, hanno rivendicato la valenza del sito di Muraglia. Lei si giocava molto in questo incontro questa mattina, era molto atteso da diverse forze politiche su quella che sarebbe stata la sua linea, la sua linea da tenere in questa mattinata. Beh, la mia è stata una linea coerente e con la giornata di oggi ho dimostrato una cosa, che io sto sul pezzo, qualcuno... Poi quello che mi dispiace, lo voglio dire, che in momenti come questi ci vuole l'unità. Se vogliamo bene una città, a prescindere dalle appartenenze, noi dobbiamo aiutare il sindaco. E lo dico alla città, al di là dei giochi della politica, per accappararsi qualche voto in più, sapendo che la sanità è un tema sensibile, e lo dico a un territorio. Un territorio come quello del Cesano e del Metauro, che rappresenta i due terzi della popolazione e i due terzi dei sindaci. Quindi in questa mattinata ho dimostrato che io sul pezzo ci sto, ho difeso questo territorio con le unghie. Ho dimostrato di non essere isolato, perché comunque l'epilogo della giornata, seppur con argomentazioni diverse, ma c'è stata una buona parte di sindaci, non dico tutti quelli che sono usciti, ma molti, che in qualche modo hanno appoggiato la mia posizione, ma soprattutto si è contrastato, non voglio dire un blitz che è una brutta parola, però una forzatura che si voleva fare per orientare la scelta su muraglia. Io questo onestamente l'ho contrastata con determinazione, perché si volevano, come si era detto, se non la politica non riesce a trovare una sintesi. Io ce l'ho messa tutta per trovare una sintesi, ma una sintesi non si può subire. C'era la proposta dell'algoritmo che il Presidente della Regione aveva portato. Nel momento in cui si vanno a portare delle modifiche, che in qualche modo danno già un'indicazione, diventano, non voglio dire sleale, però c'è una forzatura. Io ho chiesto in quel punto un rinvio per discutere, perché anche io a quel punto avevo dei parametri da aggiungere, che avevano la loro logica e la loro valenza. Ecco, dopo queste mie posizioni forti, devo dire una parte di sindaci, chi perché era contrario al sistema e al modello, chi perché non accoglieva questa forzatura, hanno abbandonato l'Assemblea e non si è aperta poi di fatto la busta. Anche se oggi, visti i comportamenti, forse qualcuno conosceva in modo più approfondito anche i risultati della busta, perché quando si propongono dei parametri e si dicono anche le percentuali, quindi qualcosa mi fa pensare che qualcuno, anch'io avevo la mia idea su quelle che potrebbero essere le risultanze dell'algoritmo. Quindi adesso che cosa avverrà? Quali sono gli step successivi? Visto che adesso ancora il sito non è stato individuato. Intanto la palla ripassa alla Regione, perché non dimentichiamo che qui si cerca molto di scaricare sui sindaci, poi noi diventiamo i parafulmini, ma la competenza specifica è della Regione, che si dovrà assumere anche delle responsabilità. Delle indicazioni sono emerse, diverse, plurali. Io penso adesso ci sarà anche un momento di riflessione, perché comunque l'Assemblea di oggi è stata un'Assemblea importante, sotto diversi punti di vista, dove ci sono stati dei messaggi forti, forti, dove si è comunque evidenziato che non c'è una posizione che stravince su un'altra, anche se una forzatura c'è stata. Io se oggi mi rivendi con merito è stato proprio quello di aver tenuto duro, in alcuni momenti da solo, veramente da solo, e riappriamo la discussione. Anche su questo però voglio dire che bisogna essere responsabili. Le discussioni non devono essere infinite, c'è un momento anche delle assunzioni di responsabilità e delle scelte. Ma è altrettanto vero, e l'ho voluto sottolineare in Assemblea, che non si può in sanità ragionare per compartimenti stagni. Cioè il ragionamento deve essere complessivo. Di ospedale si deve parlare, ma si deve parlare anche di servizi sul territorio, e si fa un ragionamento complessivo di tutta la provincia. Per quello che riguarda il sito, voglio riaffermare la bontà del sito di Chiaruce. Ripeto, nessuno ha usato una parola per contrastare le argomentazioni. E su Muraglia io ho una forte preoccupazione, che ho anche evidenziato questa mattina. Io non ho mai visto dove si va a fare una nuova infrastruttura che la si va a fare in un centro abitato. Oltre alle difficoltà che ci sono anche morfologiche, ma un ospedale di quasi 600 posti, di 580 posti, con tutti i servizi e i parcheggi, andarlo a fare in un centro abitato è una sciocchezza, è anacronistico. E poi non dobbiamo dimenticare che queste scelte riguarderanno il nostro futuro per altri 100 anni. Noi oggi parliamo di vecchie strutture che sono nate circa 100 anni fa. Ecco, queste sono tutte riflessioni che anche il Presidente della Regione deve fare. Fra l'altro un Presidente è espressione di questo territorio. Io l'ho già detto, è l'ex sindaco di Pesaro, ma quando uno svolge un ruolo deve superare quegli impanni. Io penso che il buonsenso politico di chi ha quei ruoli, e qui ci metto anche i consiglieri regionali, perché poi la Regione non sono extraterrestri, sono anche espressione del nostro territorio, penso che tengano conto, debbano tener conto anche di quelle che sono state le considerazioni, le posizioni importanti di molti sindaci questa mattina. Bene, grazie sindaco, questo è il suo pensiero. Riprenderemo sicuramente queste argomentazioni durante Primo Cittadino, che fra un po' terremo qui nei nostri studi. Grazie e buona serata. Grazie, buona serata.